Dopo l'assalto di visitatori alla montagna dello scorso fine settimana, febbraio si è aperto con una neve splendida, depositata e sistemata sulle cime appenniniche pesaresi che si preparano ad un altro weekend sulla Coltre Bianca, fra sci, Bob, Ciaspole e l'accoglienza dei rifugi. Una combinazione che è propria del massiccio del Catria, dove sono in tanti, anche nei giorni feriali, a sciare sulle piste che scendono dal Monte Acuto. Noi abbiamo due seggiovie, una triposta e una quadriposta, che servono piste sia rosse che blu. Poi abbiamo la famosissima pista di rientro, che è una pista freeride che non viene battuta e per gli amanti della neve fresca. Come adesso che abbiamo la neve fino al parcheggio, è possibile fare una discesa di oltre 6 chilometri. In tanti vengono a ciaspolare, abbiamo contato oltre 300 ciaspolatori soltanto nello scorso weekend. La meta più ambito ovviamente è la croce del Monte Catria, che vista con la neve è uno spettacolo della natura. E se il Catria è diventata un'attrezzata nonché apprezzata metascistica, lo si deve ad una serie di importanti investimenti sugli impianti. Di fatto fino a 7 anni fa la seggiovia Cotalina era uno skillift, perché nel 2009, quando la regione e il comune hanno deciso di riaprire, hanno ripristinato esattamente quello che c'era 20 anni prima, perché questa stazione bisogna ricordare che è stata chiusa per 20 anni. Quindi è stato riaperto con la vecchia cestovia, quindi cestelli aperti, non so se ve li ricordate, quelli che si morivano di freddo, e uno skillift appunto che partiva da dove parte la seggiovia Cotalina e adesso arrivava qui dove siamo noi. Siamo arrivati che abbiamo sostituito lo skillift con la seggiovia Cotalina, è una seggiovia triposto. Abbiamo fatto un nuovo impianto che parte da 1250 e ci permette di arrivare fino a 1500 metri, cioè qui dietro alle nostre spalle, lo vedete nel nostro sfondo, questi due impianti ci hanno permesso appunto di aprire le 13 piste per 12 chilometri. Siamo molto soddisfatti anche dal fatto che dopo 2-3 anni dal Covid, che si erano bloccate tutte le attività agonistiche e non dello Sciclub, siamo ripartiti quest'anno e le cose sono andate molto molto bene, c'è molto entusiasmo da tutti quanti e ci stanno chiamando anche dalle province vicine per iscriversi ai corsi di sci, a tutto quanto riguarda le attività che svolge lo Sciclub. Neve a parte, gli impianti di risalita del Catra sono in funzione tutto l'anno per tutte le stagioni, così come il rifugio Cotalina. Siamo aperti in primavera e estate sempre perché è un posto bellissimo in cui famiglie si possono divertire sia in estate sia in inverno come adesso che c'è una neve stupenda, piste bellissime, quindi è aperto tutto l'anno in modo che accontentiamo più gente possibile, quindi è vivibile 365 giorni all'anno.